Assessore, torna per la seconda edizione, Montagne Magiche. Quali sono le novità di quest'anno? Sì, un'iniziativa quest'anno si svolge in eventi più concentrati, in due località, una in Valseriano e in Val Brembana, Fopolo e Lizzola. La bivalenza di questo progetto è importante, una per la promozione che viene data alle nostre montagne, anche attraverso la presenza degli amici di Rai Oioi, quindi la trasmissione e dell'evento a livello nazionale, ma anche e soprattutto la compartecipazione, il comproveditorato degli studi e quindi il legare i nostri bambini, i nostri ragazzi alla montagna, credo che sia un tema sempre importante, anche perché se vogliamo credere nel turismo dobbiamo capire quali sono le opportunità e le bellezze, i valori della nostra montagna, già i nostri piccoli ragazzi che a volte iniziano ad allontanarsi da questa importante realtà. Oreste Castagna, anche quest'anno direttamente da Rai Oioi, ad animare queste giornate di Montagne Magiche. Con quali novità? Beh, la novità soprattutto è quella di archiviare tutti i lavori dei bambini, ce ne sono tantissimi dell'anno, di quest'anno ancora, di quest'anno perché Montagne Magiche, prima edizione, è ancora nel 2012, questo è un proseguio, e questi lavori verranno tutti esposti a Lilliput, faremo nella fiera di Lilliput che sarà a marzo, una grande mostra dei lavori fatti dai bambini, perciò mettiamo il papà e la mamma e venissi a vedere i lavori. La novità è che abbiamo degli attori nuovi che lavorano per Rai Oioi, Danilo e Liccia, che sono il cuoco Danilo, famosissimo, e Liccia la baglia di tutti i bambini, che verranno a fare spettacolo e raccontaranno delle storie contestualizzate sulla neve, sulla montagna. Anche perché quest'anno, avvicinandosi all'Expo e avvicinandosi anche le nuove tematiche di Rai Oioi, è molto vicino alla natura, cioè stiamo lavorando in tono con la natura, ciò è contestualizzato, è funzionale. Altra novità è che noi stiamo calcando anche sul lato musicale, cioè vogliamo che in queste giornate sia giornate di festa anche attraverso la musica, perciò la musica, montagna, natura, disegno, manualità, ha un senso. Quindi appuntamento per Montagne Magi? Assolutamente, sì e non mancare.